Sì, sono molto contenta. È una cosa bella e siamo venute qui per festeggiarla oggi. E senz'altro prendiamo un pochino più di spazio per la città, diciamo. Certo, dei disagi ci saranno. Contenta, felice. Guardi, speravo tanto che il centro nostro bello lo dassero a noi. In questa piazza vea a passarci un treno e a San Giovanni fa barba e capelli. Niente treno ma tante persone a piedi. Piace ai fiorentini la pedonalizzazione di Piazza Duomo voluta dal comune di Firenze. A guidare l'ultimo pulmino, con a bordo anziani nati nel 1909 da alcuni neonati, è stato il sindaco Matteo Renzi. Da lunedì il comune è pronto ad affrontare i problemi legati alla circolazione delle auto e rivolge per questo un invito a tutti i fiorentini. Oggi si festeggia, ci riprendiamo questa piazza meravigliosa, questo luogo così bello e simbolico. E domani mattina dita incrociate, chi può lasci l'auto a casa, ma nell'arco di una settimana, di due settimane, le abitudini entreranno nella testa dei fiorentini e saremo in condizione di ripartire tutti insieme. Tante le iniziative che hanno accompagnato l'intera giornata, una festa che ai fiorentini è piaciuta come sembra piacere la nuova amministrazione Renzi. Sinceramente sì, sono stata contenta, è bello, è bello veramente, sono contenta del lavoro che sta facendo, sinceramente sì. Questo sicuramente, poi gli altri staremmo a vedere. Con i fiorentini bisogna essere decisionisti, se no non si arriva mai in fondo a niente. Sì, molto carino, è una santissima annunziata, gli diede la mano, mi piace molto, è molto carino. E contenti tutti mai, però insomma decisioni che danno spazio alla città, si vede di più, è più vivibile, è bello.